Hai mai sentito parlare di una sfida epica tra due titani della politica italiana? Immagina un duello verbale che svela verità inaspettate e capovolge le aspettative. Oggi esploriamo il confronto tra Giorgia Meloni e Maria Elena Boschi, incentrato su chi protegge davvero i lavoratori italiani. Mettetevi comodi perché la verità sta per essere rivelata. Ma prima di addentrarci nei dettagli, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un like e commentare le vostre opinioni. Nel cuore del settore agroalimentare, pilastro dell'economia italiana e orgoglio del made in Italy, si nasconde una storia che pochi conoscono. L'esenzione IRPF, una misura fiscale introdotta nel 2016, è stata un argomento di grande discussione. Meloni, nel suo discorso appassionato, chiarisce perché il suo governo ha deciso di non prorogare questa esenzione per il 2024. Le motivazioni sono chiare. La misura ha finito per avvantaggiare principalmente le grandi imprese con terreni estesi e redditi elevati, lasciando le piccole aziende con meno benefici. Un paradosso, non trovate? Invece di continuare con questa disparità, Meloni ha ridistribuito le risorse per sostenere chi ne ha realmente bisogno, come i produttori in difficoltà a causa delle emergenze climatiche. E qui entra in gioco la vera notizia. Il governo ha stanziato 300 milioni di euro per affrontare le emergenze climatiche, 800 milioni per innovare l'agricoltura, e ha incrementato le risorse del settore da 5 a 8 miliardi di euro. Un vero e proprio investimento nel futuro dell'agricoltura italiana. Ma le sorprese non finiscono qui. L'Italia, guidata da Meloni, è stata la prima nazione a vietare la produzione di cibo sintetico, una mossa audace che ha raccolto il supporto di molti paesi europei. Una scelta che non solo protegge il settore agroalimentare, ma promuove anche l'idea di sovranità alimentare. Ora viene rivelata la notizia. Il vero obiettivo del governo non è solo sostenere gli agricoltori, ma trasformarli in imprenditori capaci di produrre cibo di qualità senza dipendere da sussidi, una visione di lungo termine per l'Italia e le sue eccellenze. Con tutto ciò detto, vi invitiamo a riflettere su quanto sia cruciale supportare una politica che guarda al futuro. Quali sono le vostre opinioni su queste scelte? Siete d'accordo con la visione di Meloni? Fatecelo sapere nei commenti. E non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere le prossime discussioni.